è bellissima però di fronte a noi montagna e rabbinia non ce ne stanno dei costi stanno però no se tu prendi la carta geografica e fai verso est da chiappi la rocera unica per ovvio perché questi avessi avvicinare al nord a paglia di valore esatto quindi stanno di fronte a noi il discorso è che noi purtroppo l'orizzonte dietro il monte dell'alberia e qua è così perché la carta da ora non so dritti no sale che è una bellezza poi scalfa subito bisognerebbe capire qual è il periodo dell'anno che sorge da dietro le montagne bisognerebbe studiarselo questa volta certo così non sorge da dietro le montagne devo dire che lì le montagne stanno oltre l'orizzonte il che è impossibile no no è possibile è possibilissimo quindi lì non è per albania allora è sempre albania però rientra lì la costa molto non potrebbe e bisognerebbe capire se capolinguetta c'è altezza stanno qui sono le montagne dove c'è balona e poi dietro l'altezza di Baria no 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 e si